Mi aspettavo una prestazione diversa, purtroppo vuol dire che siamo ancora indietro, abbiamo perso 3-0, salvo soltanto il terzo set, brava Peschiera, un'ottima squadra, sicuramente una squadra candidata ad andare su, però noi non abbiamo giocato sicuramente un'ottima partita. Niente, passiamo alla prossima partita in casa e continuiamo a lavorare su questi standard. Grazie a tutti.